Per l'attacco giallo-azzurro, nelle ultime ore è rimbalzata l'idea di vedere in ciociaria uno tra Babacar e Roberto Inglese, due attaccanti che certamente la Serie A la conoscono bene e che garantirebbero esperienza e gol al reparto avanzato canarino. Entrambi però sono difficili da raggiungere, sia per Babacar che per Inglese, infatti, il Frosinone dovrebbe fare un grandissimo sforzo economico. L'acquisizione dei loro cartellini sembra quasi un'utopia, basti pensare che il Sassuolo ha pagato Babacar lo scorso gennaio ben 10 milioni di euro, mentre il Napoli, per Inglese, ha trovato l'accordo con il Chievo sulla base di 11 milioni. Il Frosinone potrebbe dunque provare a portarli in giallo-azzurro solamente con la formula del prestito, ma i loro rispetti vingaggi sono comunque troppo alti. Intanto, Emil Alfredson, la mezzala sinistra islandese di 34 anni, ha accettato di giocare con la formazione di Moreno Longo, diventando la settima pedina della compagna di potenziamento della squadra giallo-azzurra, chiamata a disputare ancora il campionato di Serie A, questa volta per restarci. Il centrocampista dovrebbe svolgere oggi le visite mediche in Ciociaria. Si resta in attesa che il Frosinone Calcio ne ufficializzi l'acquisto a titolo definitivo. Chiusa la seconda trattativa con il sodalizio friulano, la prima infatti, ha riguardato Stipe Perizza. I rapporti di mercato tra Udinese e Frosinone continuano. Riguardano il portiere Simone Scuffet, classe 96, e il difensore centrale Danilo, classe 84. Il giovane estremodifensore dell'Under 21, che a Udine sarebbe chiuso da Musso e Nicolas, avrebbe deciso di accettare il trasferimento in Ciociaria e diventare il secondo di Marco Sportiello. Nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere la nuova destinazione. Per quanto riguarda il brasiliano Danilo, il discorso è più complicato dal momento che il suo ingaggio, almeno fino al 2020, è sicuramente alto. A questo punto la trattativa dovrà trovare una via di uscita per giungere alla positiva conclusione. Il Frosinone comunque non ha abbandonato la pista che conduce all'argentino Matias Silvestre. Stessi anni di Danilo in uscita dalla Sampdoria.